Ben ritrovati in questa edizione speciale del nostro telegiornale. Da questa mattina siamo costantemente in diretto per seguire anche le evoluzioni di queste scosse sismiche che sono state registrate poco prima delle 10 di questa mattina. Non perdiamo molto tempo se non per dirvi che la scossa più forte è di magnitudo 3.9, poi ce ne sono state anche delle altre. Tra poco vi faremo anche sentire l'analisi di padre Martino Siciliani, ma do subito la linea a Palazzo Pretorio dove c'è Giacomo Branco con il sindaco Stirati, credo perché poi la domanda è in questa situazione cosa viene confermato del programma odierno, insomma come si sta operando. Giacomo a te. Sì, buongiorno Cinzia, buongiorno a tutti. Siamo qui con il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati. Allora sindaco, siamo arrivati ad una settimana spettrale probabilmente irripetibile per la città, contraddistinta nelle ultime ore da questi eventi sismici che hanno messo sicuramente in ansia la cittadinanza. Ecco, innanzitutto, prima di parlare di quello che sarebbe dovuto succedere, che succederà magari oggi, in questa giornata ancora più particolare, visto che siamo il 15 maggio, com'è la situazione dei primi rilevamenti e delle prime notizie che vanno dato anche i Vigili del Fuoco? Io voglio almeno in questo momento rassicurare tutti i cittadini. Noi ci siamo attivati immediatamente, io sono in contatto con la Protezione Civile, con la Presidente Tesei, con i Vigili del Fuoco, con la Prefettura. Stiamo monitorando attentamente l'andamento della situazione a livello anche sismico. Non abbiamo segnalazioni di criticità gravi, quindi anche da questo punto di vista non dobbiamo assolutamente alimentare allarmismi. Certo, la scossa più intensa di 3.9 è quella che ovviamente ha allarmato di più anche la nostra popolazione, giustamente e legittimamente, in una giornata particolarissima, in una settimana assolutamente terribile, dalla quale siamo ancora tutti profondamente segnati, turbati e sconvolti. Io voglio dare segnali rassicuranti, ho detto che nel pomeriggio per esempio il Museo Civico dovrà riaprire. Non vogliamo assolutamente alimentare panico o soprattutto anche messaggi sbagliati che possano scoraggiare pure i visitatori rispetto alla città. Ovviamente dobbiamo stare molto attenti, non sottovalutiamo nulla, però credo che dobbiamo rispondere con attenzione, con prudenza, ma anche, diciamo così, senza determinare situazioni di particolare sconcerto, perché questo naturalmente graverebbe troppo sulla cittadinanza e naturalmente anche sulla vita sociale e economica della città. Ho già detto che nel pomeriggio la benedizione del Vescovo qui in Piazza Grande è confermata per le ore 17. E naturalmente seguiamo gli eventi, sperando naturalmente nella protezione del nostro patrono. Per quanto riguarda invece sia i Vespri in cattedrale che poi la suonata del Campanone, ci sono delle novità da questo punto di vista? Al momento no, mi sono sentito con Sua Eccellenza il Vescovo. Chiaramente l'unica preoccupazione è che magari nel caso in cui dovessero esserci altri scorsi potrebbero esserci reazioni di paura, di panico, di fuga magari delle persone. Quindi l'unica preoccupazione è questa, è una valutazione di opportunità. Le persone possono seguire anche da casa i Vespri che verranno comunque celebrati. Quindi ecco, questo lo lasciamo un po' alla valutazione del Vescovo stesso e dei cittadini. La funzione religiosa ci sarà senz'altro, si può seguire grazie alla diretta e poi la benedizione in piazza è confermata. Se non ci sono altri fatti particolari, noi abbiamo nel frattempo anche verificato la situazione del palazzo, della torretta, eccetera. C'è stato un sopralluogo in questo senso, come ce ne sono in corso altri, per essere sicuri, sui luoghi pubblici, la casa di riposo, i vari palazzi, i musei, le scuole naturalmente. Però ecco, al momento non abbiamo riscontri negativi, quindi a questo particolare frangente sicuramente possiamo confermare anche la suonata del campanone. Ovviamente Sindaco, la testa va questo giorno, che in altri momenti, in altri periodi è stato un giorno di festa. Ecco, come sarebbe stato, il pensiero ci è andato magari anche a lei, se fosse stato un 15 maggio canonico? Beh, insomma, sarebbe stato comunque un po' più complicato, questo è chiaro. Non voglio nemmeno pensare magari alla situazione di una scorsa di terremoto nel momento in cui stiamo facendo la sfilata, per esempio. Teniamo anche presente che il 13, su segnalazione di un cittadino e su intervento dei vigili del fuoco, è emersa anche questa situazione di frana sul quinto stradone, altra situazione da monitorare. Per precauzione noi abbiamo chiuso a quel livello la strada per il monte Ingino, perché chiaramente possono crearsi situazioni di pericolo per coloro che passeggiano, che camminano e quindi naturalmente dobbiamo sempre tutelare la pubblica incolumità. Quindi diciamo che avremmo avuto una situazione d'emergenza anche da questo punto di vista. Io mi ricordo nel 1984, dopo il terremoto del 29 aprile, affrontammo una festa dei Ceri, naturalmente in una situazione anche allora molto difficile, molto precaria. Purtroppo, come ripeto sempre, i Ceri sono nella storia. Quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo dovuto subire i contraccolpi di questa pandemia. Speriamo di prepararci finalmente a una festa che possa liberarsi da tutte queste difficoltà, perché credo che tutti noi, io per primo come Ugubino, prima ancora che come Sindaco, e tutto il nostro popolo, ha bisogno di riprendersi la festa. Giacomo, solo una domanda più che altro di colore. Credo forse come non mai il Sindaco non vede l'ora che finisca questo 15 maggio. Chiede Cinziattini da studio. Forse come non mai il Sindaco chiede e spera che finisca questo 15 maggio. Sì, per certi versi, senz'altro, anche perché l'ammarezza è già tanta di partenza. In più ci si sono messe anche queste scosse, questi eventi sismici, queste ulteriori complicazioni, quindi è evidente che è una giornata da superare. Fermo restando che ovviamente l'omaggio e la devozione al patrono restano intangibili e credo che attorno a questo dobbiamo tutti stringerci veramente per lanciare in avanti la nostra speranza di riprenderci il futuro e di riconsegnarlo soprattutto alle giovani generazioni e naturalmente a tutti quanti, perché la nostra comunità non può certamente vivere senza la festa dei cieli. Bene, ringraziamo il Sindaco. Ringraziamo ovviamente il Sindaco. Grazie Giacomo, grazie anche a te ovviamente. Torneremo, Giacomo Branco, a vederlo questo pomeriggio nella nostra lunga diretta delle 16.30. Allora, vi diamo intanto notizia che dalle 10 di questa mattina è stato sospeso il traffico ferroviario sulla linea Orte-Ancona a Fossato di Vico proprio dopo la scossa di terremoto. I disagi hanno coinvolto l'Intercity 534 Roma-Ancona con 73 persone a bordo e il treno regionale 4153 Ancona-Roma con 150 persone a bordo. Il tutto ovviamente per verifiche di necessità da fare sulla linea ferroviaria. Invece sono in corso, come ci ha spiegato il Sindaco a Gubbio, le verifiche sugli edifici pubblici Eugubini. Nessun danno è stato sinora segnalato, ce lo ha riferito poco fa anche l'assessore ai lavori Valerio Piergentili. Allora, la regia ci manda la schermata di quali sono state le scosse sismiche registrate. Già ce n'era stata una ieri sera che era stata particolarmente avvertita, ma quella che avete sentito tutti alle 9.56 è di 3.9, seguita da un'altra scossa poco dopo di 2.1 e poi ancora, le vedete in grafica, 3.1, 2.3, 3.0 e 2.0. Quella più forte, dicevamo, è stata la scossa poco prima delle 10, era di 3.9, una profondità di 10 chilometri. L'epicentro è stato individuato nella zona del Monte Foce all'incirca per intenderci e proprio questi 10 chilometri di profondità, quindi i tecnici sostengono che sia abbastanza superficiale, ha fatto sì che l'abbiamo sentita molto bene, praticamente l'epicentro era sotto i piedi degli Eugubini. Ma di tutto questo abbiamo parlato proprio per farci spiegare esattamente che cosa è accaduto a Gubbio a partire da ieri sera. Abbiamo parlato poco fa con padre Martino Siciliani, che è il direttore dell'osservatorio Bina di Perugia, sismologo, lo abbiamo raggiunto online. Vediamo proprio l'intervista che abbiamo registrato proprio pochi minuti fa. Dunque, praticamente all'inizio sembrava che fosse un evento isolato, contenuto, e invece poi, io ho detto subito, però non si può valutare perché il tempo è troppo rispetto, ne aspettare qualche ora. In effetti c'è stato un periodo sismico, non molto violento, però abbastanza consistente al punto tale che nella zona da Gubbio fino a tutta la zona vicino al monte, dove noi abbiamo le estazioni, al monte Urbino, c'è stata un'attività sismica consistente. L'evento più forte è stato al nord di Gubbio ed era 3.9, 4.0 come intensità. Ecco, noi abbiamo anche un'altra rete, oltre a quella classica, abbiamo una rete accelerometrica e abbiamo quindi calcolato, valutato, anche lo scuotimento del suolo, vale a dire, cioè il valore è in millimetro al secondo al quadrato e vicino proprio a quello che ha registrato più forte l'evento dopo Gubbio è praticamente Città di Castello, che ha un valore di 16.7 millimetro al secondo al quadrato. Quindi, mentre la più lontana, cioè Perugia ha già un valore abbastanza consistente, qualcosa come i 10, mentre la più lontana, che è niente di meno Caccia, a Caccia il valore è molto più basso, 1.7, quindi abbiamo anche una visione abbastanza accurata sul comportamento dello scuotimento cittico in tutta l'Umbria. Ecco, padre Martino, qui a Gubbio è stato avvertito molto forte questo terremoto, seppur la magnitudo, ecco, come ci diceva lei, rientra entro i 4, insomma. Perché lo abbiamo sentito così bene? Perché lo abbiamo avvertito così forte? Perché c'eravate proprio sotto i piedi, in pratica. Questa volta l'evento è avvenuto proprio, diciamo così, al nord della città, in pratica, dove c'è il santuario. E quindi praticamente, diciamo così, l'avete avvertito perché la profondità non era molto alta, ecco, 10 chilometri, e quindi praticamente l'avete avvertito nettamente proprio per questa ragione, ma comunque l'hanno avvertito bene anche nei dintorni di Gubbio perché hanno fatto molte telefonate tra questa notte e questa mattina. Ecco, sappiamo, padre Martino, che i terremoti non si prevedono, insomma, quindi è un po' capzioso chiederle che cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore. Però è possibile che, diciamo, ci sia uno sciame che prosegua anche nelle prossime ore? È del tutto probabile, non soltanto è possibile, ma è probabile perché, diciamo così, è un periodo sismico a tutti gli effetti, quindi, ripeto, non molto violento, però sta seguendo l'andamento normale di qualunque crisi sismica. E quindi è del tutto logico che ci siano altre piccole scossette, probabilmente quella delle 4.0, che era la scossa principale, probabilmente, quindi le altre che si susseguono saranno di contenute, diciamo, non saranno violente, probabilmente, dico sempre, no? Ma è del tutto normale che si evolve in questo modo. Se si evolve così, niente di male, perché segue l'andamento di tutte le crisi sismiche che noi abbiamo. Oggi a Gubbio è anche un giorno un po' speciale, il 15 maggio. In tempi normali, non di Covid, sarebbe stata una giornata della festa dei Ceri in onore di Sant'Ubaldo. Lei è anche un religioso, però, lo sa, Sant'Ubaldo protegge dai terremoti, tradizionalmente. Come la interpreta questa volta, non da scienziato, ma da uomo di religione? Sì, è molto semplice, cioè ha voluto far sentire la sua presenza. Siccome noi siamo stati un po' birichini in questa ultimità, invece, attenzione che ci sono sempre fatti i brani. Quindi, in qualche modo, potrebbe essere, come devo dire, un avviso, una forma di presenza. Però io poi ho pregato anche di capare eterno, ma scusa, ci è contato già il coronavirus. Ci basta e ci avanza, non volevo altro. Anche simpatico, assolutamente, padre Martino, e allora ve l'abbiamo fatto sentire. Ma è inevitabile che in una città che questa mattina già si preparava a, come dire, ad affrontare una giornata difficile per molti, perché l'assenza della festa dei Ceri, insomma, pesa per il secondo anno consecutivo, pesa ancora di più, è arrivata. Quindi anche questa scossa, che in qualche modo ha creato ancora un'altra novità e ha reso ancora più peculiare questo 15 maggio, se possibile, rispetto a quello dello scorso anno. Allora, abbiamo provato con Federica Monarchi un po' a gironzolare per la città e sentire quali erano gli umori. Ve li facciamo sentire. È stato col botto vent'anni fa e col botto stamattina, un botto diverso, che speriamo finisca qui. Con l'evento che si è verificato, non so che 15 maggio avremmo passato. Non lo so, infatti, forse si sarebbe dovuto bloccare tutto. Adesso credo, tutto tutto, no, magari io dico spostando, diciamo l'alzata, perlomeno quella, in piazza 40 martiri. Poteva essere un'idea, non a rischio, che ne so dai, però veramente questa non ci voleva. E tra l'altro, Jacopo, sei tornato a Gubbio e hai trovato anche la sorpresa del terremoto, insomma, ieri sera, stamattina, che ci rende ancora più tristi. Chissà come sarebbe stata oggi, in un anno normale, con il terremoto. Sì, sembra tutto preparato, insomma, tutta una bella scenografia. Sì, il terremoto ce lo portiamo dietro da sempre. È stata, ti dico, sono tornato terremoto, mi sono proprio risentito a casa, effettivamente. E questa è una cosa che, indipendentemente dai ceri, ce la porteremo dietro per sempre. Con questa cornice è stata ancora più tosto, più emozionante. Piangiamo i morti, purtroppo. Noi siamo fortunati che siamo qua, però ci ha portato via, per il secondo anno, la nostra festa. La festa più bella del mondo. Il nostro è l'augurio quello di ritrovare questa piazza al più presto, piena di gente, ma soprattutto piena dell'allegria che solo noi sappiamo dare. Bravissima, ti faccio i complimenti. Hai detto tutto te. Mi auguro che dal prossimo anno, ripeto, siamo tutti qua ad abbracciarci. Gialli, blu e neri. Assolutamente sì. Condivido. Ma purtroppo questa mattina, da ieri sera, anche questo evento straordinario di questo terremoto, credo che avrebbe creato notevoli difficoltà in questa giornata. La mattina, quelle due scorse che sono sentite molto forti, sono state secondo me la ciliegina sopra una torta che è proprio da buttare via. Ho vissuto questi giorni, sai, ancora le discussioni di chi magari pensava di poter fare qualcosa. E io ho detto, ma se avessimo fatto la festa oggi, anche magari contro tutte e contro tutti, e fosse avvenuta questa cosa qua, veramente che sarebbe successo, che panico si sarebbe scaturito, che spavento. Quindi forse anche questo è un segnale che qualcuno ci manda per dire, ok, state buoni, due anni state buoni e poi ripartite alla grande. Io penso che sia anche questo un segnale, eh. E concludiamo con questa riflessione che a nostro giudizio può essere anche un auspicio. Allora, chiudiamo qui la nostra edizione straordinaria di questo telegiornale, ricordandovi però che la giornata in diretta di TRG non finisce qui. Torniamo infatti in diretta a partire dalle 16.30 fino alle 19.30. Seguiremo la benedizione in piazza, seguiremo la suonata del campanone, insomma sentiremo le voci, i commenti di questo 15 maggio davvero, davvero peculiare. Allora, grazie per averci seguito, l'appuntamento alle 16.30. Allora, grazie per averci seguito, l'appuntamento alle 16.30, l'appuntamento alle 16.30, l'appuntamento alle 16.30.